A Pieve Santo Stefano il Tevere torna in forma per il Paglio dei Lumi. Sarà infatti ancora una volta il fiume e la scenografica cornice della manifestazione. Le sponde, come accade da quasi 600 anni, la sera del 7 settembre, saranno infuocate dalla suggestiva accensione dei Pagliai, uno degli eventi inseriti nel programma della rievocazione storica dedicata alla Madonna dei Lumi. In attesa della rappresentazione, il Consorzio di Bonifica 2 e Alto Valdarno ha concluso l'intervento di manutenzione ordinaria programmato dal Piano delle Attività 2024 e ha già restituito al Paese e alla sua comunità un tratto decisamente in forma, dall'aspetto più curato ma soprattutto più sicuro dal punto di vista idraulico. L'operazione è iniziata con lo sfalcio e il taglio selettivo della vegetazione, seguiti da un massiccio intervento di movimentazione dei sedimenti presenti utilizzati per rinforzare l'incalzare le mura storiche di Pieve Santo Stefano, messe a rischio dagli ultimi inverni. L'intervento è stato concordato con il giugno civile e condiviso anche nelle tempistiche con il Comune. Tutto è stato infine fatto nel massimo rispetto della biodiversità. Prima e durante l'intervento c'è stato infatti un confronto continuo con le guardie ittiche per valutare lo stato di salute della fauna presente. Grazie.